ciao a tutti questo è un altro breve video per farvi vedere l'acquisto che ho fatto da melli fimo melissa che è bravissima è una mia amica e fa creazioni in fimo pisla e loom lavoretti di tutti i tipi il suo canale youtube e melli fimo instagram e melli trattino basso loomer e poi mi ha ringraziato per aver acquistato e mi ha messo degli omaggini che adesso vi farò vedere lui impermettendo perché c'è l'omino zenzi che sembra veramente un biscotto e ha tratto tantissimo il mio goloso uccellino eccolo qua questo è zenzi che è bellissimo lucido lucido lui non è da mangiare questo so che è fatto bene sembra è golosissimo però no no non si mangia neanche il mio smalto lulu smettila no lui c'è mi fa qualcosa no grazie c'è da fare e poi ho anche acquistato questo perché a me piacciono tantissimo i minion e li adoro sto aspettando che esca il film con veramente impazienza e quindi quando ho visto questo che ha fatto melli non ho resistito anche questo è fatto molto bene no lascia stare no smettila lulu mannaggia di stereo con del carasau dove è il carasau guarda che spunta di lulu smettila sei bravo ma veramente qualcuno lo vuole volentieri proprio ok poi lei mi ha mandato gli omaggini quindi mi ha mandato questo fatto con i pisla aia lui stai buono non ti faccio vedere le cose comportati bene e questo alberello di natale lui non mi puoi togliere lo smalto smettila sono carinissimi poi sempre come omaggini mi ha messo questi fond strap lui smettila con winnie de pooh devo ottenere tutto qua sopra ma lui in pianta la e poi visto che sa che lavoro la resina mi ha messo anche un sacco di adesivi tutti di spider mann meglio ti ringrazio tanto sono un po grossi vedo cosa riuscirò a fare perché purtroppo per adesso non ho stampi così grandi però ho fatto un ordine quindi spero che in quelli nuovi che ho preso ci siano quindi tutto questo quello aia lui smettila sono creazioni appunto di di melli che ringrazio tantissimo ciao ciao a tutte